il sondaggio di Pagnoncelli. Mi sorprendeva molto il primo cartello. Ognuno lo vuole per sé Draghi. E questo è un segno certamente di popolarità, ma è anche un segno di percezione del Paese. Cioè evidentemente gli italiani pensano che Draghi stia facendo bene, stia facendo qualcosa per il loro bene. E questo io credo che debba essere preso in considerazione dalla politica. È così Pagnoncelli? Sì, è così e devo dire che lui ha una trasversalità di consenso. Addirittura pensate tra gli elettori di Fratelli d'Italia, sappiamo che Fratelli d'Italia ha l'opposizione, il livello di popolarità è più alto rispetto a quello che registriamo tra gli elettori del Movimento 5 Stelle, una parte dei quali appunto si sente ancora orfano del governo Conte.